Cari amici e cari amiche, sono Michele Torreggiani della Cantina Torreggiani di Rezzato, Brescia, via Gardesana numero 1. Siamo specializzati dal 1408 nella produzione di vini sfusi. Con l'economia così in crisi non ci sono più soldi. Pensate a voi, pensate alla qualità, pensate ai nostri vini sfusi di qualità. 20 tipologie di vini, tutte per voi. Vi aspettiamo. Cantina Torreggiani, via Gardesana numero 1, frazione Tre Ponti di Rezzato, Brescia. Ciao. Cari amici e cari amiche, sono Michele Torreggiani della Cantina Torreggiani di Rezzato, Brescia. Ci troviamo nella nostra barricaia, che è un vecchio bunker antiaereo della Seconda Guerra Mondiale. Qui riposano i nostri vini, che hanno una maturazione in barrique di rovere americano-francese di almeno due anni, dove nasce il nostro vulcano, premiato all'International Wine Speed Competition di Londra con la medaglia di bronzo. Mentre qui è stato prodotto il nostro vino principale, che si chiama appunto Principe, che è stato premiato con la medaglia di argento assoluta all'International Wine Speed Competition, sempre di Londra. Qua nascono i nostri vini, da qui potete trovare produzioni assolute d'eccellenza per il vostro palato. Cari amici e cari amiche, sono Michele Torreggiani della Cantina Torreggiani, dal 1408 produttore di vini, una delle cento cantine più antiche d'Italia. Ci troviamo nella nostra zona più tecnologicamente avanzata, nella cantina dove vengono prodotti i nostri Franciacorta, una cantina moderna, come devono essere moderni i nostri Franciacorta. Azienda e strutture di qualità, per vini di qualità, è il mio compito presentarvi i nostri tre Franciacorta, il Franciacorta di OCG Brut, il Franciacorta di OCG Satin e il Franciacorta di OCG Rosé. Il massimo livello per prodotti che sono buoni e con il giusto prezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.